Ciao ragazzi sono Mestix, Andi Video Production, oggi vi faccio vedere come andare a salvare molta CPU andando a utilizzare il Kontakt con diverse virtual instrument caricate tutte insieme in una sola istanza. Se non vi siete ancora iscritti è l'occasione di farlo, schiacciate il tasto subscribe e mi raccomando attivate la campanellina per ricevere sempre tutti quanti le mie notifiche ovviamente di ogni video che vado a caricare e soprattutto per seguirmi anche in streaming. Vi prego di lasciare un mi piace e lasciare magari un commento qua sotto al video per farmi sapere quali argomenti trattare in questi mixaggi e mastering. Come sempre vi dico che questo video sarà molto breve rispetto a quello che potrete trovare in modalità full complete su Patreon quindi link in descrizione per iscrivervi al mio canale Patreon dove troverete un sacco di altri video tutorial su mixaggio e mastering. Senza ulteriori chiacchiere entriamo subito su Studio One. Quindi una volta che abbiamo aperto Studio One andiamo a creare una traccia ovviamente una traccia strumento diamogli come conto 1 ok e abbiamo la nostra traccia strumento ovviamente questa traccia è vuota dobbiamo andare a mettere un nostro virtual instrument quindi andiamo su native instrument contact e carichiamo trascinandolo. Ora andiamo a scegliere ad esempio un sassofono e ve lo carico qua molto molto leggero e lo posso suonare con la mia tastiera poi io posso andare ovviamente a caricare una nuova istanza instrument ok vado a mettere un altro contact e posso andare a caricare ad esempio una batteria ok una batteria in questo modo yes aspettiamo che carichi e ci carica tutti quanti gli strumenti e io adesso posso andare a suonare la batteria. Questo però è un approccio molto disordinato per come andare a utilizzare il contact e soprattutto è un modo per andare a caricare la cpu in una maniera pazzesca perché se noi andiamo a vedere qua sotto sulle performance che si nascondono qua dietro vediamo che ci sono due istanze in questo momento del contact che sono cariche quindi tutte e due le istanze vanno a consumare cpu anche se sono vuote in realtà vanno a consumare cpu perché comunque stiamo caricando un'interfaccia grafica in più. La cosa più intelligente da fare è ovviamente andare a cancellare questa traccia sulla stessa traccia strumento andare a caricare gli altri nostri virtual instrument ad esempio come detto prima la batteria. Multi. Un kit di batteria e lo mettiamo sotto. Ci viene questa finestra che ci viene chiesto replace multi e dobbiamo ovviamente mettere no perché noi non vogliamo andare a sostituire il sassofono che abbiamo già caricato ma vogliamo tenerli tutti quanti quindi clicchiamo no e lui ci caricherà in coda al nostro sassofono ci caricherà tutti quanti gli altri strumenti. Ancora posso andare a caricare ad esempio un pianoforte carichiamo il degrader qua sotto e lui mi caricherà. Quindi io adesso tutti quanti gli strumenti qua dentro però come faccio andare a suonarli in modo diversificato con alla fine una sola tastiera? Come faccio? Innanzitutto quello che ci viene d'aiuto sono ovviamente i canali midi. Qui sopra se vedete su ogni strumento c'è scritto l'uscita e il canale midi di entrata. Sul sassofono c'è scritto A1 vedete porta A1 e ovviamente è il canale 1 il primo di tutti. Quindi se adesso vado a suonare mi va a suonare il sassofono ok ma non mi va a suonare gli altri strumenti. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a diversificare i vari canali midi. Il sassofono lo lasciamo nel canale midi 1. Ogni canale midi vuol dire tastiere nuove quindi diverse tastiere. Quindi con una tastiera posso andare a suonare il sassofono ok. La batteria vado a suonarla tutta quanta con un'altra tastiera quindi tutta quanta nel canale midi 2. Di default quando noi andiamo a caricare diversi virtual instrument ci va a caricare gradualmente nuovi canali midi. Infatti qua vedete la cassa c'è A2 mentre lo snare A3 eccetera eccetera. Quindi noi dobbiamo mettere tutti quanti su A2. Ok? Sono componenti dello stesso strumento batteria. Quindi adesso vado a caricare A2 per ognuno. Ok sono arrivato poi al pianoforte e vado a scegliere A3 perché ovviamente voglio suonarlo in un'altra tastiera virtuale. Ora per andare a selezionare ognuno come faccio a dirgli che voglio andare a suonare il sassofono che adesso di default sta suonando lui e voglio andare a suonare però adesso la batteria. Come faccio? Vado qui sopra e vedete che c'è il canale 1 in questo momento. Se io metto canale 2 andrà a suonarmi la batteria. Ok? E la stessa cosa se vado sul canale 3 andrà a suonarmi il pianoforte. Ok? Però io sto suonando sempre sulla stessa traccia quindi ovviamente devo andare a suonare su tracce differenti. Cosa vado a fare? Le performance le possiamo vedere qua sotto e abbiamo soltanto una istanza contact al 2% perché non stiamo suonando. Se noi andassimo a suonare con diverse parti ovviamente salirebbe. Allora c'è un problema in tutto questo. Il problema è che io sì posso andare a registrare. Allora qual è il problema di fare tutto questo? Il problema è che adesso se noi andiamo a vedere in realtà il nostro mixer noi abbiamo un solo canale nel mixer. Quindi tutto quanto quello che noi stiamo facendo esce tutto solo da lì. Quindi non possiamo andare a mixare separatamente le cose. Come facciamo andare a separare questo mixer per avere ovviamente i canali distinti per ognuno? Perché i canali che noi abbiamo fatto MIDI erano soltanto i canali di entrata non i canali di uscita. Se noi andiamo a vedere sul contact andiamo a risolvere questo problema.